Sabato 9 aprile, presso il Centro Evangelico e Mouse di Roccella Ionica, si è tenuto l'evento Compassion Day, una giornata che ha avuto come fine quello di valorizzare e promuovere il sostegno a distanza di bambini in difficoltà, dando loro la possibilità di poter accedere a quelli che sono i bisogni primari di ogni bambino, come il cibo, l'acqua potabile e le più elementari cure mediche. Un'istruzione e una formazione di qualità di base altrimenti inaccessibili. Questo tipo di sostegno mette in contatto diretto il bambino con il suo sostenitore, creando così un rapporto affettivo, profondo e personale, con la possibilità di visitare il Centro Compassion che frequenta. Con il sostegno, quindi, un'opportunità di donare un futuro dignitoso ai bambini che non hanno voce con un contributo economico periodico. Sono un collaboratore volontario della missione Compassion Italia, che lavora da più di 64 anni nel mondo, in tre paesi, America, Asia e Africa. Lavoriamo per il sostegno a distanza. Oggi, qui al Centro Evangelico della struttura in Maus, Sita e l'Orcella Ionica, abbiamo un incontro dei collaboratori che lavorano con noi per aiutarci a trovare sostenitori affinché altri bambini possano avere un futuro per la loro vita attraverso l'istruzione. In poche parole spieghiamo il sostegno a distanza che cos'è. È un sostegno di 26 euro al mese, non c'è alcun vincolo contrattuale, ma solo un vincolo morale, che viene versato mensilmente al bambino con le modalità di pagamento che il sostenitore decide di attivare. Praticamente, con questi 26 euro al mese, noi permettiamo al bambino di frequentare la scuola pubblica, di andare al Centro Compassion, dove lì faranno dei corsi professionali, più dopo scuole, attività ricreative, e si occuperanno anche dell'alimentazione e del sostegno medico che hanno bisogno giornalmente, quotidianamente e anche operazioni particolari che vengono trasportate attraverso aerei, pulmoni e navi affinché vengano operati per poter essere guariti del loro problema. Compassion permette anche ai sostenitori, ogni anno noi scegliamo dei paesi in cui visitare, permette anche ai sostenitori che hanno adottato un bambino in un determinato paese che noi andiamo a visitare, di andarlo a trovarlo. Si esprime anche con una comunicazione letterale, praticamente noi con un rapporto epistolare riusciamo a scrivere a bambino e il bambino scrive direttamente a noi, scambiamo le fotografie del materiale cartaceo. Per ulteriori informazioni potete collegarvi al sito ufficiale www.compassion.it Italia e lì ci sarà la spiegazione, si può attivare direttamente il sostegno anche da lì. Mi trovo qui oggi per presentare Abel, lui è un ex bambino che ha frequentato un centro in Etiopia di Compassion. Il suo sostenitore era un italiano di Torino e questo sostegno gli ha permesso di poter studiare, uscire fuori dalla povertà e dalla miseria. È un bambino offano di genitori, oggi si trova in Italia, è già laureato e si trova qua per continuare i suoi studi all'università. Per questo vogliamo dire grazie a Compassion.